Uno. Quanti soldi hai? Due. Che cosa mangi a colazione? Tre. Cos'è? Quattro. Chi ha una gomma? Cinque. Chi sono? Uno. Sei. Perché sei qui? Sette. Perché no? Otto. Qual è il suo nome? Nove. Come vai a casa? Dieci. Sai come si va? Undici. Cosa cucini? Dodici. Cosa fai? Sì.